E what's up a tutti ciurma e benvenuti la giocherina in questo nuovissimo episodio su Life is Strange 2 Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 50 like per questo nuovo video Eccoci qua di ritorno dopo che ieri finalmente abbiamo potuto iniziare appunto il quinto ed ultimo episodio Fino al momento in cui ho giocato è successo praticamente nulla Cioè ci hanno fatto comunque soltanto scoprire che Danny e le Sean sono ancora insieme a sua mamma La quale però ragazzi non si è ancora vista Viviamo all'interno di una sorta di non so manco come si può definire Insomma un insieme ragazzi tipo di roulotte di abitazioni in mezzo al deserto Quindi di gente che si è ritrovata lì a vivere Quindi sono tutti vicini, si conoscono, si vogliono bene Perlomeno così sembrerebbe Per cui non perdiamo più tempo e andiamo a giocare Ok Perfetto, eccoci qua E ieri avevamo, come ultima cosa, avevamo costruito questa meravigliosa scultura Daniel sta parlando di Minecraft a Joan E... Ah si? Perché mi parli al walkie talkie se sono qui? Ha nascosto un tesoro in giro per la città Non so se mi va di stare a questo giochetto Sono troppo stanco dai Siamo appena tornati Bene bene, d'accordo amico Tientelo pure A noi va benissimo così Insomma te lo godi totalmente tu Va bene Cinema, in che senso cinema? In che senso? Ok, parliamone con lui Vediamo che pensiero incredibile possono condividere Grazie fratellino Ti voglio bene anch'io Ti voglio bene anch'io Ah ok Il telo dove proiettare le cose Poi qua c'è un gioco da tavolo D'accordo Non facciamoci prendere dei ricordi tristi Per favore Cos'altro c'è qui? Oh Ma sta arrivando qualcuno Oh E' Karen? You Mammina Sei tu? Mi sembra di sì Credo avesse quest'auto Insieme a qualcuno però Insieme a chi? Sì Eccomi mamma Sono qui Sono qua Oh Oh Ma che cazzo Ma perché continuano a parlare? Chi è quest'uomo? E addirittura Manco non si vedessero da vent'anni Ma che davvero Quanto tempo è stata via? Scusatene Oh Non be' Ok Sì Benissimo E' stato bellissimo Dai E' stato bellissimo So many stars So quiet Good call I knew you'd like it Stargazer Glad you got to see that Hi mom How was the town? Town life always sucks But we got something for you Think fast Whoa Yes Thanks David You wanna play catch Danny boy? Totally Yeah Me and dad always used to play But I'm way better now No matter what he's been through He just wants to be a kid And play Yep Daniel hasn't been like this in forever You've all been a good influence on him About time you boys went camping Hope Daniel didn't get scared by all the critters No Yeah Not anymore He's seen a lot worse And that made him tougher And he can defend himself You're right And he does like to show off Maybe too much You boys have been here over a month And I still can't get over Daniel's Skills Eh Eh paura Eh 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 paura Eh Does that kind of Scare you Me God damn right it does Ah Eh Vabbè Nessuno credo eh I try to be a good influence Not always easy But He listens to me I don't know if I did right Because you never really know Listen Raising a kid Is the toughest job in the world Trust me Combat was easier Ma I I Ai figli Quanti figli hai Perché Cioè Se parla così Probabilmente Perché ne ha Oh You didn't tell me you had kids How many None I was a stepdad Or In her case A stepdouche I'm divorced now But I never had the chance To Do the right thing For my stepdaughter Before she died We were like Oil and water And she was always Starting shit Guess that's hard For a kid To get a new father Especially one like me I just Had no clue How to deal with her Wish I did Anyway You can't go back Nope Thanks for talking David Better start my delivery Now Found some weird snacks in town Arthur's gonna freak Catch you later Sean Si chiamava David Il tipo che Ok Time out Oh my god I'm gonna melt That was awesome mom Now I know why They don't play baseball On the desk Si chiamava David Il padre di No il padre Diciamo Il Il nuovo marito Della Della madre Di Di Chloe È lui Ok Questo è un bel colpo Ragazzi Perché Perché così Hanno fatto sì Che questa storia In qualche modo Si colleghi A quella Dei due precedenti Life is strange E quindi Ovviamente Questo fa sì Che vecchi ricordi E vecchie emozioni Salgano a galla Sono stati furbi E bravi Quindi lui Praticamente Dopo ha divorziato Dalla Da sua moglie Dalla mamma Di Chloe Diciamo che ha deciso Di cambiare vita Tra virgolette Hai capito David Hai capito Hai capito Che ammazza Quanta roba Coraggio Dan Lei è così Cosa Do you think Joanne è così Cosa Stanley è così Cosa La fuga È così Cosa Sei molto facile Cosa Non mi è raggiunto Se mi piace Terran Solo sei tu E lo so Ti le dico Non si Che ticosi Questo È un Resto Lo so Va bene dai lasciamo le cose dentro Dovremmo sistemarle infatti prima che qualcosa si rovini ma Guardiamo la lista della spesa Ma certo Ok qualcuno ha chiesto dei croccantini per gatti Attenzione Qualcuno qui intorno ha un gatto Ma sta roba la lasciamo qua La lasciamo qua va bene Eh ma Vabbè fondamentalmente quelli che ho conosciuto sono gentili per cui dirò sono tutti carini No vabbè perché dovrei dire una cosa Tipo vivete come dei reglietti no è un posto molto tranquillo Non mi va di essere cattiva It is so peaceful out here Guess that's what everybody's really looking for Peace You're probably right Yes I still feel like we're really privileged out here There's bad shit going on in this desert Yeah I don't think you can ever really get away from everything You can't escape reality Even here We just live slightly apart from it Comunque Sean ragazzi diciamo C'ero non è sicuramente entusiasta di questo posto Non è il tipo per cui direi non riuscirei a vivere qui Siamo sinceri I couldn't live here for too long It feels disconnected Maybe I'm too young Oh I understand It's not a starting point It's more a place to sit back and let go I see Well thanks for bringing us here Oh Sean I'm glad I was able to help you By the way Can you grab your brother so we can all talk Is everything okay? Yeah I just thought we could spend this day together Just the three of us Ok C'è qualcosa che non guardi Che cosa devi parlare? We need you at Karen's trailer Copy? Sure I mean 10-4 Hmm 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 Hola Hola Compadre How about a trek around the canyon today? You in? Totally Let's pack then Hmm 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 Io mi sento un po' stranita ragazzi E penso che anche Sean lo sia Boh Mi ha fatto un po' strano sta richiesta Così parliamo un po' Così passiamo la giornata solo noi tre Mi sembra tutto un po' strano ecco Speriamo sia niente dai Magari è solo una sensazione Ma We should have camped near that little creek It was so perfect Nah You'll need a good night's sleep after all this And the car's just half a mile down the path This place makes for a pretty cool bedroom though Bene, andiamo Wow, che bello dai Bellissimo Come sempre Che c'è? Si è appena lamentato che va troppo veloce Non è ancora tanto lontano sto posto Siamo arrivati? Siamo arrivati? Eccoci qua Daniel, spostati Wow I love to come here to get away from... Away I bet It's the best spot Let's sit down So, hey I do appreciate that you guys stuck around this long Thank you Ci siamo conosciuti meglio almeno, dai It was good to get to know you better See your life This place is pretty cool It's like Ferry Road But nicer I got to learn about living in a desert Hiking canyons Counting stars You're a natural born explorer It's hard to believe you two are actually out here with me I was lucky we had this chance Just know I love both of you so much Dirle di venire con noi Non credo che lo farebbe mai Glielo propongo lo stesso ma Già so come sarà la risposta ragazzi By the way If you wanted to You could come with us To Mexico That would be cool I would love to come see you Settled into a new home You're almost there But I have to be up front with both of you What happened in Haven Point Is catching up on us Huh? What do you mean? When we were in town We saw some stories In the papers The feds are definitely tracking us down in the region Shit And they'll find us Well Figures This gonna last forever So This is it? See you Nana We'll leave tomorrow Can you hand me that bag, Sean? That's why I brought you back here I made these For the 4th of July But this Is better Oh I love those things Whoa Awesome Cool Let's light up the sky Go 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Magari può essere triste, soprattutto se ci si è trovati comunque bene, a proprio agio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per forza mi sembra brutto perché non credo che lo faccia per forza, cioè chi è che per forza si farebbe acchiappare e si farebbe mettere in prigione, ragazzi. Anche se comunque dire grazie mi sembra brutto perché magari non sono d'accordo su sta cosa. Boh, grazie. Grazie. Faremo tutto il necessario. Oh. Grazie a tutti. Don't forget what we talked about. It's your life, Sean. Uh, you should go see David. He has something for you. Ah, sì? Ok. Scrivi a Karen. È possibile farlo. Ok, abbiamo quasi 150 dollari da parte. Io direi di farlo, ragazzi, di scrivere qualcosa. Certo, non è facile, perché Sean non ha mai smesso di chiamarla Karen, non l'ha mai chiamata mamma. Per cui direi ciao mamma. Capire credo che sia comunque sempre difficile fino in fondo, per cui direi grazie per Daniel. Scusa per averti messa nei casini. Scusa per averti messa nei casini. One day, once the dust has settled, take care, and talk soon, Sean. Ok. Ah bene così. Lascia la così. È giusto, è giusto così. Per cui, niente, non perdiamo tempo, andiamo da David. Sono molto curiosa di vedere cosa ha per me, effettivamente. E là? Ok, ragazzo. Non forgets about David. Certo, 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 infatti, siamo qui. Ok, siamo nella... Roulotte di David. Possiamo comunque sbirciare in giro. Qua c'è una foto. Must be his ex-wife. He's changed so much since this. And not for the best. Caspita. Fa strano. Fa strano vederla qui. Una foto l'ho conservata, però. Nathan. Diamo la lettera. I feel you, David. Joyce. Joyce era la madre di... di Chloe. Cara Joyce. Prima aveva scritto Joyce tesoro, vabbè. È stato bello ricevere la tua cartolina. Stai viaggiando molto, eh. Vorrei essere... Vorrei essere con te come durante la nostra aula di miele, ma no, l'ha cancellato. Spero che tu stia girando il mondo e... Aha, proprio come volevi. Voglio vedere, eh. So che le nostre vite sono completamente diverse, ma... Spero che potremo andare, bla bla bla. È tutto così diverso adesso e spero che un giorno potremo sederci davanti a una birra e sparare cazzate come una volta. Mi manchi, ma l'ha cancellato. Ripeto, ragazzi, non... Comunque non me lo sarei aspettato. Arthur ha detto che David potrebbe rispettare niente. Spero. Non mi sarei mai aspettata di... trovare un personaggio collegato agli altri Lethys Strange. Davvero, ragazzi, mai. Sì. Io e David non stiamo sharenando nessuna playlist. Cioè, è stato... un colpo, tra virgolette, abbastanza di sorpresa. Qui c'è il bagno, che vabbè, non ci interessa. O ci interessa per qualche motivo. Questo non ce l'aveva Chloe nella sua stanza, ragazzi. È probabile. Quindi l'ha conservato. Accidenti. Accidenti, ragazzi. Ok. Credo che abbiamo visto tutto, per cui... prendiamo la radio, usiamola, quello che è. Quaranta, cento, sessanta? Ok. Aspettate. Ho sentito qualcosa? Ma che cazzo? Definitivamente non. No. Mmm. Non mi sembra. Manco. Non penso che so. Continuando. Ma sì. Lo troveremo, dai. Ok. Buono. Perfetto. Penso che abbiamo visto tutto quello che si poteva guardare, per cui usciamo. Qua c'è una mappa. Vediamo un po' di che si tratta. Ok. Hai avuto il poliscagno? Sì sì. Ok. E ho trovato il poliscagno. Quasi così? Buon lavoro. Ok. Sì, abbastanza. Non mi chiedo che ti spiega. Ma i miei abitati stai molto. E sì, ero spiegelato quando Karen ha avuto con te, anche. Ma dopo aver guardato a te e a te piccoli, credo che ho capito di quello che hai fatto. Hai esperienza... formi te come persona. E mi immagino... All the shit you've seen and how it's changed you. Pretty much. Not comparing myself, but I had to go through my own hell. In war and at home. I didn't know how to deal with emotions or other people. Parli della tua figliastra? All of my fuck-ups are crystal clear now. But I'm not gonna fuck this up. Sean, I'm gonna do everything I can to help you get out of here. That's my duty now. But I want to be straight up with you. Okay? Yeah. Of course. I know you guys got screwed. That you think nobody will ever believe you. But the truth is on your side. You and Daniel can't just hide out forever. Is that how you see yourself in ten years? If you step up and face the law, you can be free. Sooner than later. We want a new life. Comunque. Saranno stanchi, ragazzi. We've come too far now. We just want a new life. That's it. I understand. I understand. I'm trying to be the adult. You're too young to be dealing with all this. And Daniel is growing up fast. Too fast. That's what I'm worried about. You made it here. So I know you're on the right path. Oh, sorry. I really have to take this. Hey, Joyce. Right on time. Oh. Bene. Yeah. I'm good. I'm like I'm setting up the solar panel. Va bene. Non stiamo qui ad ascoltare, ragazzi, ad origliare le conversazioni altrui, perché non mi sembra proprio il caso. È stato... Bello. Let's check you out one last time. Vedere che lui comunque si sia pentito di essersi comportato come ha fatto e che in fondo, in fondo, effettivamente ha cresciuto in esse. È stato bello. Davvero. Ok. Karen. Ci siamo? Non sono mai stato un patito d'auto. Non sono mai stato un patito d'auto. Sì, lo sappiamo. Voleva che trovassi la mia strada. Vorrei che fosse qui. Voleva che fosse qui con noi. È un po' che c'è che siamo arrivati a vedere Portolobos, ma non c'è. I know. Ma Esteban è ancora con te. E sempre chiesto di te e Daniel e sempre chiesto di vedere dove è arrivato. Non c'è nulla cosa di Mexico. È scurito. Sean. Tu sei carrying il peso di due persone sulle sulle. È ok per essere nervoso. Voglio solo che finisca tutto. Niente altro. I just want to get this shit over with. So we can start over. If we can. Your brother sure isn't a little kid anymore. He had to grow up too fast. He wants to be equals. And you guys are gonna have to work together. He may even help you make it. Forse hai ragione. Maybe you're right. You'll figure it out. Like you always do. Okay. Better get back to my tune up. All right. I'll make one last round before leaving. Ok. Potremmo... Potremmo anche lasciare Wey senza salutare nessuno. Però da un lato penso che mi dispiacerebbe. Per cui... Penso che... Che li saluterò, dai. Cioè, mi dispiacerebbe. Dobbiamo attraversare quel confine. Che gentile. Sean... I won't drag this out and get bitter. Besides, you and Daniel will be back to visit. Right? Certo. Ci proveremo. Grazie. Ok. I'm done babbling. I just hate goodbyes. I know you're both gonna have a great life in Mexico. You better. We... We're gonna make it work. Shit. I'm gonna miss you guys. Take care. You hear? Watch out for Daniel. He needs you. Be safe. And send us a postcard to the beach. Che teneri. Che gentili. Davvero. Dan... Can't wrap my head around those two leaving. Ragazzi, se non ho spento ancora perché effettivamente non mi ha di nuovo salvato la partita, per cui quest'episodio durerà un po' più del... del dovuto, ma... Eccoci. Beh, ha qualcosa di strano, eh? Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Well... Looks a bit off. Or something. Hmm. I agree. Something's not right. I'll figure it out. Or give it up. I love it! So, you guys leaving now? Yeah, just wanted to say goodbye. Ah, that's sweet. You're so sweet. Your brother is so sweet. Having you boys around was the sweetest thing. This is for all your help. Really? Whoa. Goodbye, boy. That's great. Uh, do I get anything? Oh, your name is on a way bigger sculpture. For everyone to see. That's true. I didn't think about that. Eh, your brother needed a little something to remind him of the artist inside. Hmm. Wicked. Okay. One big hug. And get out of here before we all start crying like babies. Thank you, Joanne, for everything. Just please take care of yourself. And my special apprentice. No worries. We always do. Hey. Is it okay if I hang out a bit longer? If it's okay with her. Oh, are you kidding? I need more help. So long, Sean. Don't be a stranger. Mm-hmm. Oh, ci ha messo i loro nomi. Che tenerezza. I'll miss you so much, Joanne. Vabbè, cioè, alla fine devo per forza salutare pure la mamma, no? Sempre in questo stesso episodio. D'accordo. D'accordo. Direi che è arrivato il momento di lasciare Away. Daniel, do you copy? It's time to wrap it up. Be right there. Over. So, did you get to say goodbye to Away? Mm-hmm. Yeah. Kinda sad. I know. Are we leaving yet? We have to, Inanna. Come here. Mom. I... I'm gonna miss you. I'll miss you too, Dani. It was amazing to spend this time with you. I'm so damn proud of you both, and what you're gonna do with your life. And if you ever need me, I'm just around the corner. Okay, Mom. Thank you. Mm-hmm. Well, Sean, this is it. Per me è facile. No, non posso che scegliere questo. Thanks, Mom. For being there. Thanks for letting me, son. Let's hit the road. Take care, boys. Stay safe. This hurts. Bye, everybody! Bye, everybody! Bye, everybody! I saluti ragazzi fanno sempre male e che dire mi ha ovviamente ragazzi come vi ho detto prima molto colpita vedere David e c'è anche solo risentire parlare di Chloe ragazzi mi ha smosso ovviamente qualcosa dentro E' stato comunque bello da un lato vedere come Karen si sia mostrata ovviamente totalmente disponibile per i propri figli nonostante li abbia abbandonati in passato quindi è stato abbastanza emozionante anche questo E niente si riprende il viaggio e sono di nuovo soltanto Sean e Daniel e ho sinceramente paura su quello che potrà succedere perché ovviamente non credo che andrà tutto liscio e sicuramente ci saranno delle difficoltà Lo scopriremo dalla prossima volta questo video termina qui grazie a tutti un bacione Gli abdoscio a tutti ragazzi da Giocherina ciao